Radio Radicale, siamo con Nazario Pagano, Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, per parlare di Premierato. Allora, il DDL di riforma costituzionale è pronto. Allora, lei è soddisfatto del lavoro che ha fatto il Ministro Casellati e ritiene che questa riforma possa anche incontrare i favori di una parte dell'opposizione con l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Sì, intanto un plauso certamente al Ministro delle Riforme, la senatrice Elisabetta Casellati, perché non era facile cercare di trovare una sintesi rispetto alle varie esigenze dei vari partiti e anche di quelli di opposizione, perché è stato fatto un confronto corretto con tutte le forze politiche. Si sta arrivando, ancora non c'è la bozza definitiva, ad un progetto di riforma costituzionale che preveda l'elezione diretta del Premier e già questo è tanto. Poi ci sono altre questioni su cui discutere, ma la cosa più importante è che gli italiani sanno, sin dall'inizio, che già dalla scheda elettorale loro voteranno il Premier che desiderano e quindi colui o colei che vincerà sa che per cinque anni sarà Presidente del Consiglio. Senta, cambiano anche i poteri del Presidente della Repubblica, non potrà più nominare senatori a vita, potrà lui diventare senatore a vita e non potrà più conferire l'incarico al Presidente del Consiglio che gli è conferito dagli elettori. Allora, la figura del Presidente della Repubblica certo cambia un po' rispetto al stato attuale delle cose nella nostra Costituzione. Sì, forse un affievolimento dei poteri è presumibile che vi possa essere, perché è evidente che la scelta del Premier spetta direttamente ai cittadini italiani e quindi l'indicazione non è più nelle mani del Capo dello Stato. La questione dei senatori a vita è strettamente collegata a questo tipo di riforma, quindi che vi sia una differenza rispetto a un tempo, rispetto ad ora, del ruolo del Capo dello Stato è evidente. Però credo che la maggior parte dei poteri restano comunque in prerogativa del Capo dello Stato, quindi è un affievolimento minimo, secondo me, dei poteri che attualmente gli sono conferiti e quindi manterrà la posizione di terzo garante della nostra Costituzione, una sorta di uomo di garanzia, uomo o donna, figura di garanzia, che ovviamente darà la possibilità agli italiani di sapere che c'è comunque una figura sopra tutte le parti. Quindi non vedremo più uno scambio come quello che ci fu tra Napolitano e Monti, che lei se lo ricorda, no? Beh, sì, purtroppo me lo ricordo, la nomina di Monti, senatori a vita, la settimana prima che gli conferisse da perfetto estraneo rispetto al mondo della politica, c'è un tecnico, punto e basta, credo che fosse elettore della Bocconi, ecco, l'incarico di formare il governo, certo, non è una bella pagina della nostra storia recente. Senta, quali sono le norme antiribaltone? Allora, il Presidente del Consiglio che, diciamo, automaticamente diventerà tale perché gli verrà conferito un mandato dall'elettore e dovrà presentarsi alle Camere, la sua maggioranza otterrà il 55%, allora potrà essere sostituito nel corso della legislatura? Allora, questo è uno dei punti più delicati della riforma. In che misura potrà esserlo e potranno cambiare le maggioranze, considerando questa norma antiribaltone? Beh, cioè non vedremo più governi, diciamo, governi... Nati in Parlamento. Nati in Parlamento, governi tecnici, come abbiamo visto la scorsa legislatura o come successe con Ciampi o con Monti. Allora, la versione definitiva di questa norma, questa sorta di possibile sfiducia costruttiva ma che verrebbe indicata al Caporello Stato e non nascerebbe in Parlamento, questi sono tutti aspetti sui quali ovviamente ho letto, sui giornali, ma non ho letto la norma perché ancora non c'è la stesura definitiva, voglio giustamente ricordare a chi ci ascolta che venerdì prossimo andrà in Consiglio dei Ministri il testo finale, quindi solo quello potremo motivarlo. Però se si trattasse di una sorta di sfiducia costruttiva, cioè nel senso che confinata nel perimetro dei parlamentari eletti in maggioranza in prima battuta, cioè eletti direttamente al fianco del Presidente del Consiglio scelto dai cittadini italiani, allora il ribaltone non ci sarebbe, cambia semplicemente la figura del Premier, nell'ipotesi in cui per una qualche ragione il Premier non possa più proseguire il suo mandato, parlo del Premier eletto direttamente dai cittadini, credo che la figura del Parlamento, il ruolo, chiedo scusa, del Parlamento se ne giovi, nel senso che vi sarebbe una sorta di riequilibrio tra esecutivo, ruolo dei cittadini nella scelta del Presidente del Consiglio dei Ministri e di deputati e senatori, quindi di parlamentari che comunque sono stati eletti, cioè il ruolo del Parlamento manterrebbe comunque un potere significativo e la vedo come un giusto equilibrio se così fosse, sarebbe grave se nascesse però un Premier direttamente dal Parlamento con i voti anche di chi è stato eletto all'opposizione, questo tipo di cambio di casacca e di ribaltone non lo potrebbe bene. Certo, cambia anche la legge elettorale, cioè si dovrà prevedere anche un cambio di legge elettorale? Questo è necessario, sembra che... Allora, era necessario presentare congiuntamente anche una riforma di legge elettorale? Non so se nel... siccome immagino che questo sarà un DDL costituzionale e le riforme elettorali non lo sono, non so... Appunto, la riforma elettorale era già fatta in Parlamento, mi auguro che sia di iniziativa parlamentare, sarei ben lieto di porre la questione nell'ambito della prima commissione a fare costituzione della Camera dei Deputati, dopo che sarà chiara qual è la riforma costituzionale che l'esecutivo ha approvato. Hai idea se arriva prima qui o al Senato il DDL costituzionale? Io mi auguro che arrivi qui, ho fatto un ragionamento logico, cioè siccome la riforma, seppure non costituzionale ma comunque importante, istituzionale, sull'autonomia differenziata è stata assegnata al Senato, vedrei logico, piuttosto che affogare, diciamo, la prima commissione a fare costituzione del Senato di un ulteriore indubitabile peso... Poi sono pochi, sono la metà, quindi voi siete di più e lavorate... Siamo di più rispetto al Senato ma siamo comunque pochi, così come sono pochissimi a Senato. La legge elettorale invece? Sempre qua? La legge elettorale, vediamo, l'importante è che sia secondo me di iniziativa parlamentare che debba prevedere come sembra sia contenuto nel disegno di legge costituzionale del governo una maggioranza, cioè un premio di maggioranza nei confronti della coalizione, dell'aggregazione di partiti che sostiene il premio di eletto. Si consulterà con Balboni che è il suo omologo al Senato? Ma certamente sì, credo, anzi, adesso sulle modalità, se dovesse essere assegnata qua la Camera, sulle modalità di come procedere faremo un confronto, ovviamente fra tutte le forze politiche, comprese quelle di opposizione. Va bene, allora, buon lavoro, noi abbiamo visto che cosa è successo nelle precedenti legislature, so che sarà un lavoro duro per voi. Sì, sarà un lavoro molto duro, però entusiasmante, a me piace molto occuparmi di queste cose, sono un appassionato di Costituzione e di diritto pubblico e pertanto l'idea di affrontare questa riforma a me piace. Si fida di Renzi? Secondo lei Renzi appoggerà davvero oppure farà come ha fatto con Calenda, con altri? Renzi è, come dire, veramente impossibile pensare o sapere cosa farà a un certo punto, questo chi vivrà vedrà, lo verificheremo. Grazie a Nazzario Pagano, Presidente della Commissione Affari Costituzionali. Grazie a lei.